Bene, un saluto a tutti gli amici di Android Blog e agli amici di agemobile.com e quest'oggi stiamo facendo una recensione di un prodotto davvero interessante, lo Stonex STX Ultra è un dispositivo che pesa 144 grammi, ha uno spessore di 8,3 mm, un'altezza di 142 mm e una larghezza di 72,9 mm monta Android 4.2 Jellypin, un processore Quad-Gore MT6589, già visto su altri dispositivi da 1.2 GHz una memoria interna da 8 GB più la memoria microSD espandibile e una batteria da 2000 mAh più, lo apro così lo potete vedere, più praticamente la possibilità di inserire due SIM in formato normale il dispositivo poi è anche, va bene, naturalmente anche il CPA, Bluetooth, Wi-Fi il display, parliamo del display, è un 5 pollici, HD, IPS e troviamo, oltre alla fotocamera frontale e ai sensori, nella parte superiore la griglia auricolare con un piccolo LED di notifica, magari se poi mi arriva qualche notifica sul telefono vedrete anche lampeggiare, ma è davvero minuscolo, il tasto indietro Home e Opzioni, diciamo nel lato superiore troviamo il jack da 3,5 e l'ingresso mini USB, a destra troviamo il tasto accensione spegnimento, sotto pulito, a sinistra troviamo il bilancino del volume, mentre posteriormente troviamo qui sotto lo speaker, la scritta Stonex, quindi il logo della casa, e più troviamo la fotocamera da 8 megapixel con il flash LED, quella davanti era da 2 megapixel e la scritta STX Ultra che ci ricorda il modello che stiamo provando quest'oggi. Bene, direi quindi di aver detto un pochino tutto, la RAM, ci siamo dimenticati la RAM, la RAM è da 1 GB. Detto questo andiamo quindi a utilizzare il telefono, questa è la schermata di blocco, abbiamo montato una SIM di Posse Mobile e un'altra di Vodafone e andiamo ad aprire il telefono. Alla prima vista il display mi sembra davvero molto molto carino e luminoso, la gestione della SIM è molto facile, abbiamo qui la possibilità di scegliere quale utilizzare e nel caso chiudere off, quindi mettere quella SIM in disuso, scegliere chiamata vocale, quindi poste mobile oppure Vodafone, oppure chiedi sempre messaggi, poste mobile Vodafone oppure esce una volta un pop up che ci dice di quale delle due vogliamo andare ad utilizzare, poi connessione dati, quale delle due utilizzare, quindi naturalmente ci sceglierà in questo caso poste mobile visto che Vodafone è solo in GSM essendo messa nella seconda SIM, nella seconda slot della SIM. Bene, detto questo allora direi di andare a parlare subito di browser, quindi ecco che ci apre la pagina della Stonex, dove c'è appunto la possibilità di vedere il dispositivo e ci sono queste flip cover che a questo punto io andrei a vedere direttamente, vi faccio vedere quindi come funzionano, ecco, questa l'ho lasciata imballata proprio per aprirla insieme a voi, praticamente questa è la custodia che si può comprare di tutti questi colori praticamente che si vedono qui, l'andrei ad aprire, eccola, ecco qui, questa è la custodia, praticamente cosa succede? Si toglie questa parte di dietro e la si usa praticamente quello della custodia come cover posteriore e poi si va a chiudere il telefono in questo modo, davvero carina questa flip cover. Nel frattempo se non mi è arrivata una notifica probabilmente avrete visto che la lucina del posto sul padiglione auricolare si è accesa, così vi ho fatto vedere anche il live di notifica. Detto questo direi allora di andare subito su The Verge, ok, c'è la versione mobile ma possiamo tranquillamente aprire la versione full, la andrei a trovare qui sotto, eccoci qua. Subito un test pesante per questo Stonex che però vi anticipo che ha un browser che funziona davvero molto molto bene, ha già aperto The Verge, è già molto fluido e ci permette di fare subito scrolling fino a sotto e tolto qualche micro rallentamento, qualche micro scatto ma dovuto a uno scrolling un po' impazzito visto che se adesso lo faccio con una certa razionalità non ha alcun tipo di problema e anche il doppio tap funziona, ecco qui, in modo perfetto, ha reimpaginato comodamente tutta la pagina, in modo appunto ottimo. Bene, quindi il browser funziona benissimo, proviamo allora come funziona invece il GPS. L'ho già, vediamo se l'ho, no non l'ho attivato, scusatemi, colpa mia, vediamo un po' adesso come funziona il GPS. Lasciamo qualche secondo per vedere un po' se riesce ad attaccarsi ai satelliti, anzi magari facciamo una cosa, usciamo e rientriamo, visto che non ho attaccato il GPS così facciamo una prova più corretta e vediamo un po' come il dispositivo si comporta. sono passati 15-20 secondi da quando abbiamo fatto più o meno, abbiamo acceso il GPS e messo il status GPS a girare però ancora riesce a trovare il GPS. vediamo un po' se riesce ad agganciarsi, mi sembra, mi sembra, mi sembra di no. Sì, in effetti ho già notato questa cosa, quando facciamo un fix o comunque un aggancio a satellite e siamo all'interno di una casa, il GPS fa un pochino fatica, fa un pochino fatica sinceramente. Quindi quando siamo all'esterno direi che è molto meglio andare ad utilizzare anche i dati come ausilio per la navigazione satellitare. Bene, avendo visto questo direi allora di passare alle mail, già che ci siamo. Niente, le mail vengono viste davvero bene, non ce l'ho da dire. Sono, diciamo, con il classico, il solito, come potrei chiamarlo, problema di Android che non ci fa vedere tutta la mail nella stessa pagina dello schermo ma non è un grosso, alla fine, problema, basta andare di qua e di là, mi scoccio un pochino ma questo purtroppo bisogna fare, tranne per pochi dispositivi. Detto questo, vedrei appunto la fotocamera. La fotocamera, devo dire, mi è piaciuta, realizza dei buoni scatti, nulla di eccezionale, nulla di male, davvero una fotocamera di medio o alto livello, devo dire. Qui, prima di scattare la foto, vi faccio vedere, ecco, un attimo, informazioni di posizione, esposizione, effetto colore, modalità scena, bilanciamento bianco, antisfarfallio, rivelamento volto, autoscatto, dimensioni foto, l'auto megapixel è la massima, l'iso. Per quanto riguarda invece i video, qualità video, si può scegliere media, alta, fine, modello audio, microfono e quant'altro. Andando a scattare una foto, eccoci qua. Ok, ho attivato il flash, magari in questo caso il flash non ci serve, dato che oggi c'è una buona luminosità. Ecco, questa è stata la foto scattata e, beh, devo dire che, nulla da dire, la foto è voluta molto bene, mi sembra, mi sembra davvero di buon livello. Ho detto, questa fotocamera mi ha convinto, devo dire che mi ha convinto. Già che ci siamo, allora direi di andare ad aprire la galleria, togliamo il nostro classico oggetto che ci farà sfondo, andare quindi in galleria e andare appunto ad aprire la fotocamera, dove appunto ho fatto anche qualche scatto, eccoci qua, delle piantine di basilico che ho fuori casa. E, beh, devo dire che sono venute davvero bene, ottimo anche, nonostante fosse una giornata con un po' di pioggia e un po' di sole, quindi anche un po' di controluce, di riflessi, eccetera, devo dire che la foto è venuta benissimo. Poi questa la posterò e mi è piaciuta tantissimo, davvero ottima. Guardate anche questa foto come le gocce si vedano discretamente quando vado ad ingrandire. Quindi, niente, la fotocamera mi è piaciuta, mi è piaciuta. È una classica 8 megapixel, intendiamoci, non è che stiamo parlando di una, ecco, magari, ecco, questa è venuta un po' sgranata. Quando vado a mettere a fuoco, quindi nel punto dove ho messo a fuoco, ok. L'unico problema che ho notato è che il punto dove non viene messo a fuoco, quindi, non so, per esempio questa o questa, non so se riesco a farla vedere dalla lente della camera, risultano essere un pochino sgranate. Però, una fotocamera di 8 megapixel più di questo non si può chiedere. Carina anche l'immagine che ci si muove quando vado a visualizzare un video. Ciao ragazzi, questo è il video realizzato. Siamo qui con il nostro Stonex Ultra a realizzare questo video per vedere un po' come si comporta il dispositivo nelle video, nello zoom. Anche i video sono di livello discreto, nulla di eccezionale, ripeto, ma sono di buon livello, quindi una buona fotocamera per un dispositivo che quindi realizza dei buoni scatti. Poi li metterò anche sull'articolo, quindi potete rendervi da solo conto di com'è la qualità. Detto questo, andrei ulteriormente avanti e andrei a parlare di due cose. La prima, vi volevo far vedere nell'impostazione del sistema, la memoria è disponibile, sono 7.39 GB, quindi gli 8, più naturalmente la scheda SD. Ah no, scusatemi, ho sbagliato, ho fatto il contare, scusatemi. La scheda SD sono 8 GB, vabbè, perché sarebbe la mia. E la memoria interna è, allora, in questo caso, da 4 GB, non da 8 GB, come ho detto nella parte iniziale della recensione. Quindi, mi scuso, vi ricordo quindi che la memoria interna è da 4 GB, non da 8 GB. In questo caso i libri ne sono 2.67 GB. Le informazioni sul telefono, possiamo vedere che la versione di Android è la 4.2.1. Bene, visto questo, andrei un attimo a parlare di qualche applicazione che inserisce direttamente la Stonex. Abbiamo, vabbè, un piccolo file manager, una torcia, vabbè, oltre alla guida rapida direi che non ci interessa più di tanto. Poi abbiamo il, dov'era, ecco, sfondi, dove praticamente possiamo cambiare lo sfondo al nostro dispositivo e anche, vediamo se lo trovo, temi che praticamente ci dà la possibilità di sostituire il tema presente con uno, di questi che sono presenti qui, oppure magari di inserirne di altri. E infine c'era anche la radio FM, che direi non è male. Ok, avendo visto quindi anche questo, parlerei un attimo di tastiera per vedere un pochino come va questa tastiera. E devo dire che non ho avuto problemi, il touch mi sembra di buon livello. Provo a scrivere ciao come va la vita. Ottimo. Ok, siamo su Android Blog. Buono anche il fatto che mi abbia corretto la digitazione errata. Quindi buona la tastiera, mi è piaciuta infatti, e buon lavoro da parte di Stonex. Allora, direi di andare a fare gli ultimi test. Quindi prima di farvi vedere qualche immagine particolare per vedere com'è lo schermo, direi di vedere un attimo se il dispositivo supporta eventuali che vengono collegate. Mi sembra di no. File manager? No, infatti. Il positivo quindi non permette di collegare i chiavetti o dispositivi USB. Bene, allora dicevo quindi tornare in galleria per andarci a vedere delle foto di test che ho inserito e poi andare appunto a fare la nostra classica prova di asfalt. Questo è il pannello di colori che può essere visualizzato su questo dispositivo. Sono colori belli, vivaci, mi piace questo schermo. Anche questa foto viene vista molto bene. Anche quest'altra. E no, ve lo farvi vedere prima di vedere i video. Ecco, questo è uno sfondo bianco con scritta nera. Devo dire che il bianco risulta essere abbastanza bianco, quindi c'è un buon contrasto con il nero. E quando, ecco, questa è una foto di colori, lo schermo HD si sente, si vedono bene anche le limature che ci sono state create dal fatto che le matire sono state appuntate, quindi buono e si vedono davvero ottimamente. e volevo far vedere però, eccolo, questo qui. Questo è una... praticamente è uno sfondo nero con scritta bianca. Diciamo che il nero non è proprio nerissimo. Tende a essere un pochino... un po' troppo luminoso per essere un nero. Comunque, nulla di male. Questo è un FLV e viene riprodotto tranquillamente. Com'è la vita di un criminale internazionale in pensione? Mi serve il tuo aiuto, Dom. Ok, si vede benissimo l'FLV e andrea di aprire anche il 1080p lasciando prendere il 720 e il 480 perché visto che mi legge il 1080p siamo già ai ottimi livelli. E... provo a spostarmi e vedete il telefono mi segue subito, non ci sono rallentamenti e quant'altro e il video viene visto splendidamente. Ottimo. Quindi questo display. L'MKV viene solo riprodotto l'audio non il video. Quindi abbiamo detto ottimo display da parte... da parte di... dello Stonex. Davvero questo telefono mi ha convinto, perlomeno dal punto di vista del display. Andiamo appunto nella musica. Andiamo ad aprire la nostra canzone classica. Vediamo come va l'audio. Allora, cosa dire dell'audio? Non è altissimo, non è di grandissima qualità, ma direi più che sufficiente per un cellulare. Buono invece quando si attaccano le cuffie, magari meglio se quelle auricolari. Direi di... ah, ecco cosa mi sono dimenticato di farvi vedere. La confezione la vediamo subito. La vado a recuperare. Eccola qui. Eccola, così parliamo anche di cosa c'è nella confezione. Scusatemi, ho dimenticato all'inizio, troppo preso dal telefono, ma la facciamo adesso, non c'è nessun problema. Allora, qui abbiamo una serie di manualistica della... appunto della... della Stonex, nulla di particolare. Cose che io in genere non guardo quasi mai. Tolto questo, abbiamo un caricatore davvero piccolissimo, ottimo. Mi piacciono i caricatori piccoli per i telefoni, così posso portarli anche in giro senza particolari ingombri. Poi abbiamo queste, dicevo, splendide cuffie in ear che si sentono abbastanza bene e che aiutano quindi l'ascolto. E poi il classico cavo USB. E nulla di più. Questa è la... la confezione che fornisce la Stonex con questo telefono. Bene, detto questo, direi allora, visto che abbiamo già visto anche la custodia, di chiudere, andando a provare Asphalt su questo dispositivo e direi che abbiamo finito qui. Prima di chiudere, nel frattempo che si carica Asphalt, parliamo di altre situazioni. Per esempio, la ricezione è ottima sia dal punto di vista del Wi-Fi sia dal punto di vista della ricezione cellulare per entrambe le SIM. Per quanto riguarda l'autonomia, devo dire che l'autonomia è buona, classica direi, con questo dispositivo, con un uso meglio intenso, si riesce ad arrivare in genere a cena, partendo, facendo una giornata lavorativa, con magari i dati sempre attaccati, un po' di navigazione, un po' di musica. Quindi direi una batteria che tutto sommato tiene, certo non performantissima, che magari ci porta fino a tardanotte o magari più di un giorno, però in media con quasi tutti quanti gli altri smartphone, considerando che questo dispositivo comunque monta all'interno una doppia antenna per l'alloggiamento e per il funzionamento delle due SIM. Bene, siamo pronti direi quasi per giocare ad Asphalt, eccoci, vediamo un po' come funziona il gioco. Dal punto di vista video direi ottimo, il dispositivo ha un ottimo schermo, mi è piaciuto e quindi è davvero godibile, piacevole giocare ad Asphalt. Per quanto riguarda invece la fluidità, mi sembra che non ci siano particolari problemi, forse magari non è così scattante, scattante nel senso di fluido, ma devo dire che niente, mi sta convincendo, mi sta convincendo, direi che è davvero stabile il gioco, non presenta particolari problemi, anche quando andiamo a prendere il nostro e quindi chiediamo magari uno sforzo maggiore alla grafica, non ho noto alcun tipo di problema. Allora, stiamo parlando di un dispositivo che costa intorno ai 299€ e dual sim, un quad core, ha una buona recezione, delle ottime prestazioni per quanto riguarda il browser, fotocamera e in genere fluidità sul dispositivo. quindi, le uniche magari, non dico pecchi, ma gli unici punti forse un po', come dire, un po', non eccezionali, ecco, suono magari il GPS, un audio non eccezionale, ma davvero sono davvero, ma davvero, davvero, ripeto dieci volte, davvero pochi i punti che non mi hanno convinto di questo telefono. Buono il phone factor, sottile il telefono, maneggevole, non molto pesante, magari non stiamo parlando di un telefono in alluminio, ma comunque ha una buona linea, una certa eleganza, un ottimo display e davvero complimenti alla Stonex per un dispositivo che mi ha convinto, particolarmente, che vi ricordo essere anche dual sim. Bene, direi che è tutto per oggi, ciao a tutti gli amici di Android Blog e G Mobile, ci vediamo alla prossima, ciao!